Ciao creatura, io sono Ecati Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di Cusai ASMA Sì, un altro ce l'ho fatta, un altro haul del mercato, ho preso cose, poche cose però belle frezzantine Come prima cosa voglio ringraziarti perché continui a seguirmi, perché mi metti tanti like, perché mi scrivi tanti commenti Cani che appaiano ovviamente sempre sotto la mia finestra, ma non sarebbe più, cioè è ormai anche questa quasi una tradizione Ho comprato la BB cream, quella della Siena a Lidl, non è che mi stia trovando tanto bene perché In quanto prima mi mettevo la base e poi mi mettevo il fondotinta, era opposto, adesso mi devo mettere due strati di BB cream E poi fissarla con la cipria, perché sennò sembro tipo mega sudata Però non lo so, vedremo in fase di editing come non mi sembra chissà quanto uniforme Però devo anche dire che ho preso del sole in faccia, mi sono abbronzata Forse comunque quella lì non copre abbastanza, non lo so, fammi sapere nei commenti perché ho bisogno di un tuo feedback Come al solito, creatura, perché mi aiuti tantissimo a capire le cose Ok, perfetto, allora Aspetta che guardo E anche con questi nuovi acquisti ho già in mente degli outfit che andremo a vedere adesso per i video outfit Volevo aspettare che fosse un po' più fresco, adesso sto girando una settimana prima i video che stai vedendo Sono girati una settimana prima di quella che escono E c'è ancora molto molto caldo E mettermi i maglioni per fare gli outfit autunnali non ci riesco, c'è un po' caldo Infatti in questo video qua ero ancora in pantaloncini corti quando mi sto Che sono quelli da casa che abbiamo comprato insieme tra l'altro al mercato E molto scialla così senza recesino e via perché c'è troppo caldo per fare qualsiasi cosa Yeah Veramente Adesso sono a fine Guarda ti dico già oggi è il 28 agosto quindi siamo a fine agosto e c'è ancora caldissimo Quindi Però pian piano ti porterò anche gli outfit, gira la moda come avevamo detto Perché Ho delle idee e poi voglio anche i tuoi consigli Che vanno bene sia consigli femminili che maschili che così abbiamo tutti i punti di vista Che va bene così, è giusto così E ognuno con la propria esperienza e con i propri gusti Quindi dopo uniamo tutti questi punti di vista e creiamo il punto di vista supremo L'outfit supremo, gli outfit supremi Ok, allora Ti ho fatto tipo vlog Quindi sono andata nella mia Siccome probabilmente è stata l'ultima giornata in cui potevo andare al mercato E probabilmente, non lo so, forse martedì prossimo forse riesco ma la devo vedere Comunque, allora ho detto me la goto e mi goto proprio la giornata a 360 gradi E sono andata nella mia pasticceria preferita di Rovigo che è Dolci Tentazioni che c'è dal nome È tutto un programma Dolci Tentazioni e infatti mi sono presa la brioche al cioccolato È un cappuccino decaffeinato E le brioche che fanno lì sono, credo dal mio punto di vista, le brioche più buone dell'universo Perché sono super mega burrose però leggere allo stesso tempo Cioè tu la mangi e senti tutto il burro e la dolcezza che non sono stucchevoli Sono buonissime ma allo stesso tempo non risultano pesanti Sono leggere, ne mangeresti 35, ok? Cioè tu ti senti sazia Però senti quel desiderio di golosità Che dici, però sono anche leggere Dici, però cacchio ne mangerei altre 35 Anzi 42 Perché sono leggere anche se sono burrose E quindi i prezzi sono come dei bar normali Ma questa è una pasticceria E c'è proprio questo pasticcere che ha le mani Non so, bravissimo E non ho mai assaggiato una brioche come quella di dolci tentazioni Non so, aspetta se perché sto facendo pubblicità Però lo sai che quando a me piace una cosa Ne parlo fino allo svenimento Perché mi piace tanto Perché sono convinta che così è fine E vabbè E quindi mi sono C'è la foto C'è la foto qua Della mia Della brioche al cioccolato che ho mangiato E delle cappuccino Che quando sono entrata Stavano finito le brioche Mi stavano detto Oh no, devo scegliere una brioche Stanno finito Invece dopo Ne hanno sfornate delle altre Però vabbè Ho preso quella di cioccolato L'ultima volta avevo preso quella alla crema E questa è la brioche al cioccolato E il cappuccino è buonissimo Perché non è schiumoso Ma è cremoso Sopra È proprio come una crema di latte Sopra non so spiegarlo È buonissimo E lo bevo senza zucchero Perché in alcuni posti Ha proprio quell'odore Quel gusto da bruciato Che secondo me Non sanno lavare la macchinetta Per il caffè E O non sanno lavarla O non la lavano Perché non sanno che bisogna lavarla Vabbè Smontando tutto Insomma E Quello lì invece è buonissimo Anche senza zucchero Perché è proprio buono Cappuccino Decaffeinato Buonissimo E E appunto Non ha la schiuma sopra Perché spesso ti fanno quella schiuma Che dopo rutti Fino a tre giorni dopo Perché è tutta aria Invece lì è proprio Sembra proprio una Una crema di latte Non so È cremosa È buonissima Benissimo Poi Insomma Quella È il mio posto preferito A Ruiz Dove fare colazione Poi Mia sorella Aveva visto Che avevo Quelle finte Birkenstock Non porta Ciabatte Sandali Però ha visto me E quindi ha detto Bene Quindi me li compiegli Anch'io Bene Non ce n'erano più Non me lo puoi dire A fine estate Non me lo puoi dire A fine estate Perché è ovvio Che adesso Stanno già tirando Fuori altre cose E infatti Ho trovato La versione invernale Come puoi vedere Gli ho detto Se vuoi Ho trovato queste Ho detto Non mi piacciono Grazie Era una battuta E Poi dopo In questa pancherella C'erano Le Dei vestiti Delle cose Degli indumenti Della marca Camomilla A 3 euro E c'era E c'era questa camicia Che mi piaceva molto Però era taglia 42 Ho provato Ad indossarla Ma Sì a 3 euro Ho provato Ad indossarla Ma mi era troppo piccola Costava 80 euro Il negozio Poi l'avevano scontata Al 50% Costava 40 euro Che erano comunque tanti L'avrei pagata 3 euro Peccato che non c'era La taglia 44 Mi era troppo stretta Mi era troppo stretta Sulle spalle Avevo paura Di strapparla Tipo Stile Hulk E quindi Purtroppo In me Non l'ho comprata Però Poi mi sono rifatta Adesso Ti dimostro Cosa ho preso Ti ricordi Nel scorso episodio Di Tryon Hall Mercato Mia mamma mia Ha preso Uno smanicato Nero Con Le catenelle A 2 euro E In questo mercato C'erano C'erano Quali identici A 1 euro Si vede che sta finendo l'estate Quindi li stanno smattendo Così E L'ho preso Quale taglia unica Però Grigio Perché Nero L'avevo già Preso Grigio Il cartellino Dice che c'erano Come colori Nero Cammello Grigio Cammunghia gialla Grigio E blu Ovviamente Ci lascio Le catenelle Perché Sono C'erano Tolte Quelle A uno Smanicato Qualsiasi Ho il video Dove me lo sono Andata a provare Mi sta giusto Come l'altro Però Mi si vede Nel capezzoli Vabbè Portiamo pazienza Per questi capezzoli C'è troppo caldo Mi dispiace Poi Sempre un euro Ho preso una di quelle cose Sempre da Mezza stagione Che c'è caldo C'è freddo Non si sa E ho già in mente Un outfit Per questo Cioè Vorrei fare Un outfit Tutto nero Con t-shirt Nera Che forse Tutta nera 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 Non ce l'ho Però ne ho una Che ha un disegno piccolino E quindi Va bene Maniche corte sotto E poi magari Potremmo Metterci I jeans I pantaloni Che ho preso L'ultima volta Con le superga Tutto mercato Quindi potrei fare Anche Dirti anche I prezzi Perché anche Quella maglia lì L'avevo presa Al mercato Pochi soldi Quella maglia nera Quindi Posso farti Anche con i prezzi Quindi sarebbe Un outfit Total black Più questo Specie di maglioncino Perché adesso Vedrai che non è proprio Un maglione Che è verde È uno di questi Tra virgolette Maglioncini Tutti bucherellati Traforati Credo si dica È bello largo È un po' Così Come potremmo Definirlo Sparazzino Non so Fa un po' Tipo Non lo so Professoressa Della scuola D'arte Professoressa Dell'artistico Oddio dipende Come lo abbiniamo Sarà che Mi sto facendo Influenzare Perché Sulla 7D Mi sto riguardando Dharma e Greg Alla sera E sua mamma E la Dharma Hanno un po' Questo stile Anni 90 E quindi Niente Forse mi sono fatto Un po' Influenzare Comunque Questo è Adesso Tralasciando che sotto C'ho Lo smanicato grigio I pantaloni rossi Non ci azzeca niente Però Se ci vedi Un outfit Nero Total Ne black Sotto Secondo me Ci sta da Dio E ha Appunto Questo cuore Ricamato Insomma Che mi fa capire Che è quello davanti Perché non ha Nessuna Etichetta C'era C'era anche Bianco Ma era Tipo Proprio Maglione Con le maniche Lunghe Invece Questo Ha La manica Tre quarti Un po' Pipistrellosa Bello Sembra Uncinetto A mano Mi piace Anche per questo E poi Mi piace Appunto Perché sotto È tutto Non regolare Ecco È tutto Dislivello Mi piace Quando sotto Sono davanti Corto Dietro Lungo Oppure Anche così Un po' Asimmetrico Mi piace Invece Non mi piace Un'immuno Spalla Per esempio Però se sotto Sono diversi Mi piace Mi gusti Strani Quindi anche questo Ho pagato un euro Quindi si dà Ci sta È una specie Perché non sarà mai Come un maglione Però Ho fatto un corso Quest'estate E c'era una ragazza Che Quando c'era L'aria condizionata A bomba Aveva freddo E lei Si metteva Dei maglioncini Così Buccherellati E quindi Ho detto Che bella idea E poi Quando l'ho visto Ho pensato a lei E ho detto Eh però Può servire In quei casi In cui c'è caldo Però c'è freddino Che non sa che cosa Mi tratti Perché se ti metti Qualcosa di Maniche lunghe Magari In una fila Così c'hai caldo Invece questa è una via di mezzo Né caldo Né freddo Ed è giusto Per questa stagione Quindi Ci servono anche Gli indumenti Per la mezza stagione Che io non avevo E adesso li odio Perché vedi lui L'altro video Che ho preso Anche le due cosucce Poi Mi pupà Mi fa Ah guarda Ho buccato Tutti i calzini E Anche se io Li avevo comprati Di nuovi Ma non so Dove sono spariti Quei nuovi Che li avevo preso Li avrà già rovinati Tutti Non lo so Comunque Ho fatto stare Perché lui ha Fa l'impianchino E anche Mezzo muratore Quindi Usa le scarpe Quelle là Antinfortunistiche Secondo me Mangia un sacco di calzini Con quelle si rovinano Con i buchi E Le suda E tutto Insomma Non è che lavora In ufficio E sta fermo C'è capito Quindi secondo me Anche così Si rovinano di più Ma Comunque A parte questo Ho ricomprato Siccome mi ero trovata Bene io I calzini Ti ricordi Quelli tutti neri Che avevo preso 12 paio e 5 euro Li ho ritrovati Però Sono blu Grigi Chiaro Grigio Oscuro E nero Allora gli ho detto Per non far confusione Perché sennò Dopo tu ti prendi Quelli miei neri Pensando che siano I tuoi del mucchio Io resto Sono andata a calzini Come al solito Mi prendo io Quelli neri E tu hai Quelli colorati E così Anche perché Li ho pagati io Già Quindi Sarebbero tutti i miei No Però Vabbè E mi prendo Quelli neri E tu ti prendi Quelli grigi Chiaro Blu E grigio Oscuro Che tanto sono Molto di più Quelli neri Sono solo Tre paia E così Ne ha una bella Scorta Anche perché Sono una via di mezzo Tra estate E inverno Che sono abbastanza Alti Sono Compro Una caviglia E questi Li ho ricomprati Sia perché Mi ci sono trovata bene E hanno anche Un buon prezzo Ma anche perché Sono 95% Cottone E 95% E La stan Ed ecco che Devono trapanare A quest'ora Sembra giusto Devo andare a chiudere La finestra Poi Ultime due cose Che ho acquistato Nella mancherella Quella dove avevano I ventagli Ho trovato Le mutande Cinque paia Di mutande Che costavano 5,99 E le ho pagate In sconto A 2,99 Ho dovuto prendere Il grigio Perché c'erano anche Nere Ma erano rimasti Solo SM Lì per lì Volevo prendere La M Ma La sono andata In cassa A chiedere Informazioni Perché Cosa vuol dire M Che taglia E Io in realtà Ho la quarta Taglia quarta Perché Non c'è un culone Ma sono alta E queste Credo siano Anche a vita bassa Come si vince Qua dalla signorina Ok E E lei mi ha detto Ah le ho comprate Anch'io Le ho Le ho quali E Quella La tipa Della cassa Mi fa troppo Di testa Questa Ho preso La taglia L Allora io L'ho guardata Ho detto Guardata Ho guardato me L'ho ricordata Ho detto Meglio se mi prendo La L Allora le ho prese grigie Va bene lo stesso Sono belle grandi Cavolo Mi sa che mi sono anche Troppo grandi Accidenti Eh però Lavandole Poi ce le stringono L'ho fatto bene A prendere Un po' più grandi Che belle Ma mi sembrano Molto più comode Di quelle Che sembrano Nell'immagine Sono 95% Cottone E 5% Della stomaco Nel sotto Che c'è L'elastico Ma dai Non posso fare Il dry Un haul Delle mutande Anche se in realtà Vanno i dry Un haul Dei costumi Da bagno Quindi più o meno Saremo lì Comunque Io cerco Sempre Mutande Che siano Almeno 95% 80% Cottone Perché Tempo fa Appunto Mi prendevo Anche le mutande Da un euro Che poi queste costano Anche meno Le mutande Da un euro Dei cinesi Con tutti i disegni Sette carine Fru fru E la ginecologa Mi ha detto Non prenderle quelle Perché non sai Con che materiale Sono fatte Non sai con che Inchiostro Sono fatte E quindi è meglio Che ti prendi Quelle tutte In tinta unita Di cottone Almeno 80% E trovo sempre Quando trovo 95% Me li compro E in più È stato Un affarone Perché tu ero 99,5 paia Top Ultima cosa Allora Avevo La scorsa volta Avevo visto Una camicia A un euro Di Jack Jones Vintage Scusa Stanno dito Di Jack Jones Grigia Vintage Stile Stile Proprio di una volta Bellissima Da uomo XL Quindi Bella Grande E non era tanto Per prenderla Per me L'avrei presa Da regalare Però poi Ho detto Ci penso Un euro Così No Sì Un euro Ci penso E Poi dopo Sono tornata Alla Bancherella L'ho cercata L'ho cercata Ma non l'ho più ritrovata Quindi se lo vede L'avrà comprata Qualcuno Non so se è la stessa Ma ieri Nella banca Da 50 centesimi C'era la stessa Lì che mi aspettava Che diceva Ecco E allora Logicamente L'ho presa È bella Dei dettagli Molto belli Dopo Non so se me la terrò Io O se la regalerò Tanto adesso C'è caldo Per metterla Ed è È proprio Jack Jones Originale Dentro c'è Proprio scritto C'è scritto Vintage Denim Jack Jones E È Palesemente nuova Ma fatta Con quello stile Un po' rovinato Ma si vede Che non è rovinato Ma è fatta apposta Cioè Non so se mi spiego Poi mi piace Perché ha Tutti i bottoni A pressione Che la differenza Da Che la fa Essere diversa Dalle altre Oltre Poi Ha Questi Non so come si chiamano Sopra le spalle Ah manca un bottone Adesso ho visto Manca un bottone Vabbè E manca il bottone Su un taschino Poi ho questo Questo Un inserto Qui Questi buchini Tipo Vibiette Non so come si chiamano Vibiette No non so Non ne ho idea Questa decorazione A coi fuori Che se proprio Questa indossata da me Questa indossata da me È gigantesca Sì Me ne rendo conto Però appunto Non l'avevo acquistata Per me Mi piace un sacco Comunque Con quegli inserti Che non so come si chiamano Sicuramente tu lo sai Creatura Però vedi Se la tiro su così E la tengo aperta Con sotto Sempre come tre Una maglia Anche di una band Così Ci sta Volendo Posso anche indossarla Io in un momento così Anche Per andare a fare aperitivo Ecco Un momento così Sciallo Non di certo Per andare al lavoro Ecco Perché è molto Magari con dei jeans Faremo l'autovideo Con dei jeans neri Scarpe nere E Maglia Di una band E quella lì sopra Ci sta anche Volendo Magari Tiro su le maniche O le chiudo Così magari Sono un po' più strette Non mi scivolano Del tutto Sembra che ci sia Temporale Invece la vicina Diciamo che È una camicia Oversight Per me Non so Fammi sapere La tengo La regalo Beh se la do A mio papà In realtà Dentro un solo modo Io me la posso pigliare Quando voglio Se invece la do A ragazzo Di mia sorella È andata Per sempre Ma tanto se la do Io la do A Natale Quindi Da posto Cioè E la uso Intanto io Un Oscar Però non è che Se la indosso un attimo Per fare un outfit Succede qualcosa Cioè si può lavare E poi dopo Siccome è tipo vlog Ho mangiato Per la prima volta Aspetta che mi faccio E che non si trovano Che non si trovano spesso E poi avevo Questi pomodori Ripieni di Gorgonzola Buonissimo E un'oliva Esplodendo Mangio poco Perché dopo Sono subito Sazia Dunque Se ho fatto tutto Ho stretto i denti Ho fatto due settimane Dove Mi sono rimessa A mangiare poco Anche se avevo fame Che la noia Che hai voglia Di Mangiare Magari Le schife Questi le snack Robi Così Non ho mangiato niente E E ho fatto in modo Che il mio stomaco Si restringesse E se conosci il tuo corpo Puoi fare anche queste cose Insomma In quanto divinità Poi forse mi riesci meglio A me che a te Però Impara a conoscere il tuo corpo E Potrei fare queste cose No E Comunque Io non sono una Nutrizionista Una tutoressa Quindi per queste cose È meglio che parli Col tuo medico Io Conosco il mio corpo Faccio queste cose Su di me Però Ognuno Insomma Ecco Non seguite il mio esempio Anche se non è che Sto dicendo chissà cosa Nel senso Non è che Diciamo che In questo periodo Restando a casa Diciamo Nel periodo In cui non ho lavorato E Sono rimasta a casa A casa Magari mi annoiavo Anche se avevo delle cose da fare Però Stai sempre un po' così triste Che dici Eh cavolo Non trovo lavoro Eccetera eccetera Allora ti viene un po' più da mangiare Un po' più di schifezzuole Più di snack Così così E quindi Mi ero un po' più Lasciata andare Questa cosa Mi non piace Ho sempre tornare Sulla retta via E quindi Dopo ho detto No aspetta Mi sono resa conto Che stavo mangiando Un po' troppo schifezzuole Per schifezzuole Dico Quei cibi Non molto salutari Grassi Spine di sale Di zucchero Che E c'è anche frutta Diciamo Che ti danno dopamina Però Non Ti fanno crescere La panza Insomma E Non vanno neanche comunque bene Per la salute Bisogna introdurre Vitamine Cose Cioè Non troppo sale Insomma Le cose giuste Le fibre Una cosa equilibrata Ecco Non mangiare solo quello Ecco E quindi Mi sono accorta appunto Di questa cosa Ho detto Piano Qua bisogna Piano piano Qua bisogna Sistemare Qua bisogna 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 E mangi Queste cose Che ti fanno Stare bene Mentalmente Ecco Ti danno Dopamina Così E Dici Cioè Non è che Te ne rendi Proprio conto Magari dopo Te ne rendi conto E dici Aspetta E quindi Insomma Bisogna un po' Anche Disintossicarsi Da questo cibo Spazzatura Perché Appunto Non ci va bene Lo so che è appagante Da un certo punto di vista Però Bisogna anche pensare Che in realtà A me piace anche La frutta La verdura Però quanto è più facile Aprire un pacchetto Di virtual Per dire E mangiarselo tutto Le virtual In realtà Prendo Quei coni di myself Il bacon e il formaggio Prendevo A Lidl Ecco Per esempio Le patatine Lì Oppure Non lo so La nutella O altre cose Può essere di tutto Insomma McDonald's Non lo mangio Da una vita Quindi Non era proprio Quella Era una cosa Che compravo Al supermercato Di questo tipo Che Insomma Magari Mangiavo ogni tanto Ogni tanto Ogni tanto Però ogni giorno Invece Andrebbe mangiato O mai O adesso L'ho proprio Toldi In modo drastico Non le ho più comprate Quindi non le ho più mangiate Che prima le compravo Me le trovavo in casa E' ovvio che ti viene voglia Adesso proprio Non le ho più comprate Quindi in casa mia Non le mangia più nessuno E infatti Ti mi ha grito Anche mio papà Vabbè Lasciamo perdere Comunque Ma questa è un'altra storia Spero che questo video Ti sia piaciuto Come sempre Io ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao CREADURA